Gli agenti della Polizia di Stato, perlustrando il quartiere San Cristoforo, hanno notato un giovane che si aggirava con fare sospetto in via Alonso e Consoli, luogo a loro già noto per lo smercio di sostanze stupefacenti. I poliziotti hanno quindi deciso di sottoporlo a controllo, identificato, e risultato essere un 25enne catanese che si è dimostrato nervoso e insofferente. Un controllo più approfondito ha consentito alla Polizia di rinvenire tre dosi di marijuana e una di crack, oltre a 20 euro, denaro ritenuto provento dell'attività di spaccio. Accompagnato presso gli uffici della Questura, al termine delle attività di rito, il 25enne è stato denunciato in stato di libertà per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. La droga e il denaro sono stati invece sottoposti a sequestro.